Buonasera direttore, oggi giornata di incontri Passorello ha parlato di Lukaku come sogno difficile da realizzare ma non impossibile Solo se sono stati incontri positivi Direttore ci dica solo se Lukaku è un obiettivo possibile per l'Inter Passorello dice che è un sogno non impossibile Solo questo Ciao, 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 ci vediamo domani Presto, presto